Allora ragazzi, buonasera a tutti, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Sono in compagnia di mia moglie, che nel frattempo è giù un attimino E stasera ci facciamo una nuova partita a Deep Madness Se sia chiaro, sto registrando senza cavalletto, per questo vedete un po' ballare la ripresa Perché voglio provare un nuovo tipo di gameplay, un nuovo tipo di riprese per i gameplay Perché tenere una telecamera fissa che riprende tutta la partita Partita che magari ti dura due ore, io salvo qualcuno che ci abbia voglia di vedere un videogameplay del genere Io mi addormenterei, sicché ho detto, magari facciamo più un resoconto Ora vi faccio vedere più tutto quanto, ovviamente la partita, vedete, è appena iniziato Il setup iniziale, abbiamo gli eroi che sono qua giù, che devono ancora iniziare la loro avventura Tra l'altro questa volta abbiamo usato i Devore Marker, quelli in 3D E anche addirittura l'Activation Marker, questo qui E questo qua giù, che invece è il Devore sulla sequenza di autodistruzione Qui abbiamo le schede dei nostri personaggi Con le riserve di ossigeno, che sono queste qui Qui abbiamo le carte compartimento infestato e quelle che devono essere infestati I dadi del Kickstarter, dell'Investigator Pledge, l'All-In, tutto insieme Il dado dei mostri, vabbè, banale di vero personaggi Settori della mappa allagati Quindi quando vedete questi pallini qui sono sempre settori della mappa allagati Nella missione principale dobbiamo prendere questi tre obiettivi verdi e un altro è laggiù Quelli verdi e portarli poi qui Prima che la sequenza di autodistruzione, come vedete da laggiù in fondo, arrivi qui Perché in quel punto esploderà la base Quindi ci sono tanti settori allagati Lo giocheremo in modalità easy Quindi per ogni stanza dove c'è lo spawn non mettiamo anche tutti quanti i token Che ti danno dei malus al movimento, malus ai punti ferita No, non lo mettiamo, giochiamo liscio e pulito Qui c'è la sequenza di attivazioni dei nostri personaggi Che, scusate la luce Capitano Samuel Smith, Jared Drake, tutti gli altri E qua sotto vedete i mostri nella sequenza di attivazione Che poi va così, se vi ricordate, alternata I personaggi, quelli con la basetta colorata, sono di mia moglie E gli altri personaggi sono miei Comunque la missione ci dice di andare in questi settori allagati Prendere questo obiettivo, questo obiettivo e quell'obiettivo E portarli qua giù E ovviamente inizieranno a spawnare mostri uno dopo l'altro Quindi non vi faccio vedere tutto quanto il gameplay Ma vi faccio io un resoconto di guerra E poi vabbè, ovviamente vi faccio vedere anche le parti salienti dell'avventura Iniziamo Allora ragazzi, nel primo turno vedete qua giù che l'attivazione ci manda su una devore phase Con un livello di spawn di mostri di 3 Qui ho cambiato il setup perché c'erano due mostri che non sono in questa avventura Mi scuso, comunque abbiamo sostituito Abomini e quell'altro con l'acceccato e il delirium Comunque, zona che è stata, era già allagata, che è stata corrotta è questo L'uovo di spawn, quindi il devore marker è qui E qui davanti abbiamo un delirium Poi qui sono arrivati due accecati, un accecato qui, un accecato qui E di culo anche un delirium nella zona di partenza Quindi quello che dobbiamo fare ora è liberarci di questo delirium Per poi dopo andare avanti Ovviamente in giro per la mappa il primo obiettivo ce l'abbiamo subito apportata qui Però è in un settore allagato, quindi dovremo stare particolarmente attenti Quello che c'è da fare ora, visto che il primo personaggio nella sequenza, come vedete qui, è Samuel Smith Che è il capitano E il mio Samuel Smith ha, eccolo qui, vedete che ha la mitraglietta Questa Tra l'altro speriamo non sfochi perché sto registrando un 4k Comunque tira agitata 2 5 dadi Colpisce col 5 più E per ogni danno, per ogni colpo che entra fa una ferita Quindi vado a tirare qualche dado Ora non ve le farò vedere sempre ragazzi Oddio ci ho messo il dito davanti Però ovviamente vi faccio vedere un tiro veloce Quindi tiro 5 dadi Che sono questi qua Vediamo subito in diretta Col primo attacco per ammazzare quel mostro E entrano colpi col 5 più Quindi ho fatto un 5, 2, 5 Quindi sono entrati due colpi E sono entrate praticamente due ferite Perché ciascun colpo farebbe una ferita Il problema è che la creatura attaccata Il delirium, che è questa qua giù Ha un valore di armatura di 1 E 3 punti ferita Quindi il primo colpo me l'ha assorbito Però poi gli ho fatto una ferita Ferita che andiamo a indicare Laggiù, glielo metto accanto Comunque andiamo avanti Vuole ragazzi la mia merda Che i 3 attacchi del mio capitano Che è qui Su il mostro Non sono bastati per ucciderlo Sì che mi sono preso Un punto sanità mentale Che mi permette di ritirare tutti i dadi E fortunatamente Alla fine l'ho ucciso Sì però mi sono già preso Un punto sanità mentale Vabbè almeno tanto l'ho ammazzato Ok Ora praticamente abbiamo fatto Tutte quante le nostre azioni Ci siamo spostati nel settore allagato Ovviamente abbiamo abbassato I valori dell'ostigeno Dei due personaggi Che sono nel settore allagato E lei Che sarebbe Randy Carter L'investigatrice Ha come abilità speciale Una volta per turno Andiamo se riesco a fare fuoco Sì Una volta per attivazione Puoi compiere gratuitamente Un'azione di investigazione Questo cosa vuol dire Che queste azioni qui Che vedete sulla mappa Sono azioni di investigazione Quindi direttamente Bisogna farne tre Per prendere questo oggetto Per prendere ciascuno Degli oggetti di investigazione Della missione Però Una delle tre azioni L'ha già fatta automaticamente Perché lei Anche senza tirare i dadi Risolve direttamente Tipo un'investigatrice Risolve direttamente Una ricercatrice Un'azione di ricerca E ora però Si iniziano a muovere i mostri Perché ora È arrivato sul Devore counter Qui davanti Sull'attivazione Tocca l'accecato E quindi tutti quanti Questi accecati Si muoveranno Nella loro attivazione Fanno muovi Attacco E poi speciale Che nel loro caso Lo speciale Vediamo un attimino Se riesco a fare focus Dice Un investigatore A tua scelta Che si trova Sulla linea di vista Di questo accecato Viene indebolito Linea di vista Ma linea di vista Loro non sono in linea di vista Con nessuno Quindi semplicemente Si vanno a muovere Di uno Nella direzione Che li porta Più vicino Verso i nostri eroi Vediamo se si riuscirà A risolvere il problema qui Il bello di questo gioco Che l'adoro Un po' come Zombicide Siamo sempre No ora siamo nel secondo turno Se poi si va a vedere Laggiù in fondo L'attivazione No Siamo sempre Esattamente Nel secondo turno Ci stiamo dividendo Ovviamente per andare a fare obiettivi Guardate quanti mostri Ci sono in più Rispetto a quanti ce ne erano Nel primo Però Una cosa buona C'è da almeno una Ho trovato Un bel fucile a pompa Non contenti Questi gusci del cavolo Hanno generato Dei mangiamenti Che ci sono arrivati Direttamente in corpo a corpo Perfetto Come se non ci fosse Abbastanza casino Sulla mappa Giustamente ci mancavano No questi ragniacci Schifosi qui Che arrivano corpo a corpo A chi è lei amore Felicia A Felicia Armitage Si attiva il nuovo evento Sul tracciato Che dice che Il livello di ossigeno Di tutti Si abbassa Il massimale Si abbassa Di un valore Ora Siamo attaccati Qui ancora una volta Da un mangiamento Che sicuramente Lo distruggeremo velocemente Poi le squadre Si sono divise Perché Arthur Wayland Randy Carter E Felicia Fanno una squadra Per andare in questa zona A prendere questo obiettivo Mentre di qua Invece ci sono Il capitano Jared Drake E Roman Asimov Che si divideranno E andranno laggiù Quindi prima dovranno Distruggere questo mostro Schifoso E avendolo abbattuto Siamo ancora nel settore Allagato Dovranno andare avanti Loro due A dare una mano a lei Perché come vedete Sta per combattere Un Un putrido Il problema del putrido È che quando Li fai ferite In corpo a corpo Un po' nel buon stile Di Alien Perde acido E te lo spara addosso Quindi fai molta Attenzione amore mio Mia moglie Con Felicia Quindi L'è qua giù Appena trovato Una motosega Che andrà ad utilizzare Contro sto mostraccio Schifoso Che è il putrido Vai a tirare i dadi Vediamo cosa ti viene fuori C'è una cosa Che non abbiamo calcolato Cosa Va bene che è forte Però Mi dice Al termine del tuo attacco Infliggi a te stesso X danni Per 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 il numero di insuccessi Ottenuti Da i tirati dado Cioè ciao Ti autoferisci Con la motosega 3 Con 3 o più Sì Vai tira tira Tirali qui davanti Così si vede Tirali per qui Quindi colpisce Con 3 o più 5 o 6 Lei ha fatto 2 colpi 2 danni Il bello è che ogni danno Fa 3 ferite Almeno se c'è scritto 3 ferite Nella motosega Il bello è che il putrido Ha un valore di armatura Di 1 Quindi praticamente Per ogni attacco Ti scalerebbe 1 Quindi facendo la somma Dei danni Ti in tutto Gli hai fatto Quanti danni Sono entrati Gli avresti fatto 6 danni Perché sono entrati Due colpi Quindi gli avresti fatto 6 danni Meno 1 dello scudo Che a lui Ne ne fai 5 E gli rimarrebbe Un punto ferita Però C'è scritto Nella bellissima descrizione Qui Dopo che il putrido Ha subito ferite Ogni investigatore Nello stesso spazio Subisce un punto ferita Quindi andiamo a prendere Un punto ferita E lo mettiamo laggiù Sulla scheda di Mia moglie Quindi ora Fai il Secondo attacco In corpo a corpo Perché Con la prima azione Ha cercato Quindi è un'altra azione Vai Speriamo che Dio te la mandi buona Il Dio abissale Quindi con 1 è mancato E con 2 è mancato No 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 Però pare il numero di insuccessi No ti fai 2 ferite Quindi mia moglie Prende ancora 2 ferite Perché si è tagliata a un piede Invece di tagliare il mostro E che ne so Valla di a lui Ascolta Ascolta Maledetto stronzo Di putrido Cortesemente potresti morire Che ti manca un punto ferita solo Ora nella sequenza Abbiamo nel quarto turno Un'altra generazione Con infestazioni di un settore Che ora andremo a vedere qual è Comunque per farvi intanto Un ragguaglio Della situazione Io spero che queste riprese Verranno Decenti In questo nuovo stile Che facciamo Comunque qui c'è un putrido Che si sta avvicinando Dalla zona di partenza Che era questa qui Vi ricordate L'inizio del gioco Abbiamo una squadra Che sono loro tre Che stanno andando di qua Intanto qui c'è Qui c'è l'intrepida Randy Carter La mia Ricercatrice Che tra l'altro La faccio di un attimino Non è nemmeno armata male Perché ha Una torcia Che gli dà un valore di fuga Di più due Nel caso stessi per morire E un fucile d'assalto Che fa uno sbotto di danni In più Per una volta Possa anche ritirare i dadi E infatti Randy Carter Se vi ricordate Lì davanti Qui esattamente In questo punto qui C'era un putrido Che lo ha ucciso Però ora che il problema In corpo a corpo con lei Rimangono due gusci Che devono essere abbattuti Ma tanto il guscio Ha quattro punti ferita Ma zero armatura E poi sto schifettino qui Mentre invece L'altra squadra Quella col capitano Che sono questi qua Sono in corpo a corpo Con un delirium Che ha un punto armatura E tre punti ferita E da qua giù Invece sta arrivando Un guscio Con un altro animaletto Schifoso Che sembra un po' la cosa E lì davanti Chi era more sto vi bianco Lui e Drake Abbiamo Jared Drake Che invece Per quanto sia sott'acqua È già arrivato nel punto Per fare il nuovo obiettivo Quindi dai Per ora non siamo messi malissimo Speriamo di riuscire a fare qualcosa Comunque Ad ora L'obiettivo è Per questa squadra Liberarsi di loro E fare questo obiettivo Per la squadra del capitano Liberarsi di questi mostri E fare l'obiettivo laggiù Ci si farà? Ma speriamo bene Dai per ora Non sta andando malissimo Per quanto Un pochino di ferite E vedete qui c'ha Arthur Wayland C'ha un obiettivo Un po' di ferite Insomma E soprattutto sanità mentale Le abbiamo prese Anche sulle schede Di personaggi di mia moglie Che vedete alla rovescia Un pochino di ferite Sanità mentale Ce ne sono Però vabbè Ragazzi è normale È il gioco È così Cioè Da un momento all'altro Come cambia la situazione Apparso Un'isteria Maledetto Apparsa Uno squadrone Qui Sembrano di buono L'attacca per Arbor Tre isteria Schifosi qua giù Apparso Un famelico lì Sono i famelici Sì un famelico Apparso un'altra isteria E poi se non erro C'era anche un altro famelico Nel punto di partenza Così ci arriva subito A rompere le scatole E poi Ah sì Un famelico qui nel mezzo Questo qui brutto Insomma Oh non male Non è ancora rischiosa La situazione Perché ripeto Siamo armati bene Però A parte vi faccio un attimino Scusate Un primo piano ragazzi Guardate anche le miniature Guardate Scusate se sfoca Però sto riprendendo Tutta a mano Senza cavalletto Quindi ve lo dico E sto riprendendo Io non mia moglie Quindi ho la mano Un po' anche Che mi trema Ragazzi guardate Le miniature di questo gioco Questo Insieme a Nemesis Come vi dico sempre È davvero Il mio gioco Da tavolo preferito Ce la faranno I nostri eroi O esploderà La stazione Io ho bisogno di cure 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 Avresti bisogno di un po' di curetta Anche perché qui iniziano a esserci Un bel po' di mostri In questa stanza Per andare a fare l'obiettivo E Felicia Armitage Però non è nemmeno armata male Amore Perché c'ha C'ha la motosega Dio buono Quindi Prenditi un punto sanità mentale Per tirare un dado E guarire X per 2 Quindi Prenditi un punto sanità mentale Di quelli lì Sono arrivato a 3 Glielo metti sulla scheda Scena 3 Ok Il suo valore è 3 Non ne può prendere di più Lo so Tira Fa vedere Tira i dadi Tira i dadi 4 punti ferita Quindi recupera 4 punti ferita Che è lei Questo qui arancione X per 2 Sì Per 2 quindi 4 Il tiro che ha fatto per 2 Quindi ne recuperava fino a 8 Addirittura Però vabbè Sì Levali tutti Tutti Si è curata completamente tutto Ah sì Per 2 quindi sì Tutto Quindi questa era la prima azione L'altra che fa? No Ammazza sti stronzi Ammazza sti stronzi Che ci fanno il culo Andate belle Movimento gratuito Movimento gratuito Guardate belle ragazzi Voi ditemi se queste cose qui schifose Non vengono veramente fuori dal film Leviathan Spacchi il culo Al guscio Vai tira Tira i dadi che si vedano 1 e 2 Cos'è con la motosega? Eh no Fai le tira l'impero che si vedano 5 ha colpito E 2 ha mancato Quindi col 2 Ti prendi X Quindi ti prendi 2 ferite Tanto prenditele Tracchete Faccio 3 danni Fai 3 danni a quale? A questo guscio qui Quel guscio Brava Che quel guscio lì Se non mi ricordo male I gusci hanno 0 di armatura Quanti sono entrati Ricolpi 1 Quindi gli ha fatto quante ferite? 3 danni Ma lui c'ha 4 punti ferita Quindi rimane con un punto ferita Dai ce la possiamo fare Riattacco un'altra volta Riattacco un'altra volta Al guscio maledetto Eh sì Ti ribecchi 2 ferite te Come prima Oh porca miseria Però a lui gliene fai Altre 3 Vabbè E 4 Aspetta ce la fai E l'ammazzi Vai E l'ammazzi Il capitano Che molto coraggiosamente Classica scena da film Muori Muori Bastardo E il delirium Ci ha provato Ma Muore Ti muovi Che dovevamo giocare Invece queste scenette Non è ancora disperata Non è ancora disperata Tam 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 Io direi che bisogna iniziare A darsi una mossa Cioè sono sponati Delirium Delirium Accecati Accidenti a loro Qui bisogna per forza St'a squadra Deve ripulirsi St'a stanza Il prima possibile Per fare quell'obiettivo Che tra l'altro Gli manca soltanto Un check Ed è fatto In questa stanza Quaggiù Invece dove c'è la dottoressa La ricercatrice Randy Carter Li basa soltanto Due azioni per farlo Il problema è che Una volta fatti Non c'è problema Sono fatti Si prendono Si trasportano Però tutti coloro Che hanno l'obiettivo Addosso Che al momento Uno di questi è Ad esempio Arthur Wayland Perché ciascun personaggio Ne può portare Soltanto uno Bisogna portarli Tutti qua giù E per portarli Tutti laggiù Bisogna trovare una strada E mi sa che ci sarà Un bel po' Da combattere Comunque dai Non siamo ancora messi Malissimo E vediamo che si può fare Questi simbolini qui Questi token che vedete Sono praticamente Dei malus Di un'allarmatura Che dà il dottore Allora L'intrepido capitano È entrato nella stanza Dove c'era Jared Drake C'è entrato lui Per andare a fare L'obiettivo laggiù In fondo Perché Jared Drake Praticamente Stava affogando Infatti Quaggiù sulla scheda A parte che ora Si è refullato Perché è uscito Ha subito Un punto ferita Da annegamento Quindi Ha deciso di scappare Dalla stanza laggiù Ha lasciato L'obiettivo da fare Al capitano Che lo farà Tanto è full Anche di ossigeno Mentre qui invece Arthur Weyland Che è praticamente Questo personaggio Quaggiù Che tra l'altro Nel frattempo Si è anche attaccato Un'isteria in testa Che schifezze Vi maledette Me lo devo levare Quanto prima Però lui È andato in questa zona qui Perché ora Vuole chiudere questa zona E vogliamo provare A scappare di qua Verso l'uscita Con tutti gli obiettivi Perché sta arrivando Una legione di mostri Quindi questa porta qui Per forza Va chiusa Preso dall'ultimo atto Di follia estrema Il nostro Arthur Weyland L'ingegnere Che sembra uscito Da Alien Ha chiuso il portellone Per bloccare Questa parte qui Della mappa Guardate quanta roba c'è Anche se Il portellone Lo sfondano Molto facilmente Perché praticamente Devono tirare Due dadi E basta che Fanno anche solo Un successo E l'hanno sfondato Quindi il portellone Non serve Per bloccarli Quanto per farli perdere Almeno un turno Noi dobbiamo Ora Il capitano è sempre laggiù Deve ancora fare l'obiettivo A livello di turni Siamo quasi alla fine Abbiamo ancora Quattro turni di gioco Vabbè Ci abbiamo tutto il tempo Per farlo Non siamo messi male Non siamo in zona Cesarini L'unica cosa Quaggiù il capitano Deve riuscire a scappare Abbiamo bloccato Questa zona Perché devono fare Questa strada qui Andare di qua E poi da di qua Andare verso l'obiettivo finale Secondo me Ce la possiamo ancora fare Sta tutto sul fatto Che riusciamo a liberare Questa zona E i mostri Devono sfondare la porta Ma rimanere fermi Almeno un turno Ragazzi Il capitano Samuel Smith Ce l'ha fatta Ha preso il terzo obiettivo Sentila che telecronaca Ti faccio Però il problema È che ha usato Tutte e tre le azioni E ancora in mezzo I mostri Non se ne può liberare Non ha più ossigeno E inizierà a perdere Punti ferita Allora La situazione È questa qui Il gruppo Che si era staccato Da questa parte Sono riusciti a riunirsi Con il dottore Che è questo Con la pedina blu Che vedete qui Sono riusciti A riunirsi Con Questa qui era Con la pistola Il tuo Nathan Drake Viene da dire Jared Drake Poi Felicia Armitage E tra l'altro Sono riuniti tutti Quindi ce l'hanno fatta Il gruppo di sei Che avete visto Alla partenza di sei Si sono riuniti tutti e cinque qui Manca il capitano Che qua giù in fondo Sta combattendo con i mostri Però Tranquillamente Il capitano Ha un valore di fuga Di quattro Sulla carta E i mostri Che sono lì con me Che sono due famellici Hanno un valore di acchiappo Invece di uno Quindi tranquillamente Ce la farei a scappare Quindi nel turno dopo Cioè nel turno ora Quando tocca a lui Potrei fare tranquillamente Uno Due Tre E il gruppo Si andrebbe a riunire Il problema è che dobbiamo Superare ancora Una zona di movimento Due Tre Quattro Cinque Sei Dove è? Sei E sette Per portare tutti quanti Gli oggetti qui E il problema è che sul tracciato Di esplosione Vedete Manca ancora un turno Per attivare un effetto E portare L'ossigeno di tutti a zero E poi Turno dopo La base Esplode O meglio Implode Sott'acqua Quindi non ce la facciamo Nemmeno Avendo all'arena di Babbo Natale Lì la La cosa La slitta Ad arrivare laggiù in fondo No all'arena di Babbo Natale La slitta Volevo dire Non ce la facciamo Arrivare laggiù Con mia moglie Che mi prende Rufus Ma io mi immagino te Ci ha sciotto Sull'arena Che la stai uccidendo Ci ha sciotto Ci ha sciotto Comunque Abbiamo fatto un errore logistico Perché io per tutta la partita Per tutta la partita Ho pensato Che qui ci fosse una porta Non mi chiedete perché Perché se no Sarei passato da di là No facendovi la strada Per tutta la partita Ho pensato Che qui ci fosse una porta Quindi Me lo do da solo del coglione Perché Però vi dico una cosa ragazzi Anche giocando le modalità easy Ovvero Laddove ci sono le zone di spawn Di generazione Senza mettere i token Di effetto Confermo Il problema Che hanno detto Tutti i baker E tutti i giocatori Di Madness La prima missione È veramente impossibile Perché poi guardate Cioè Eravamo armati anche bene Cioè Eravamo armati anche bene A livello di punti ferite E tutto quanto Non eravamo armati male Cioè a livello di ferite Sanità mentale E quant'altro Quindi Cioè anche mia moglie Era armata bene Come armi e tutto La prima missione È veramente difficilissima Ragazzi Comunque Il nostro Gruppo Ha fallito Questa missione Finisce qui E non la giocherò mai più La prima Non la gioco più Quindi prossima volta Prossima partita Faremo direttamente La seconda È andata male ragazzi Siete morti Addio Signore della Croce